Ciao a tutti, oggi è la festa dei nonni ed io voglio cogliere l'occasione per dedicare questo video a tutti i nonni del mondo vogliamo parlare di questi nuovi nonni di oggi? Uh, loro sì che si sanno far rispettare, mica come noi e poi i nostri genitori nutrono i nostri figli ogni giorno con alimenti sani e genuini proprio come quando eravamo piccoli noi a proposito, vi ricordate quando eravamo piccoli Noi sì che temevamo i nostri genitori che poi quando gli dici a tu madre, ma ti ricordi quando mette i pericchi e Marsali come la Champions League e che te risponde, certo, sì, oh, ma guarda come ti ho cresciuto bene Grazie ai nostri genitori che ora siete diventati nonni, come faremmo senza di voi Tanti auguri di vero cuore Grazie ai nostri genitori che ora siete diventati nonni, come faremmo senza di voi Grazie ai nostri genitori che ora siete diventati nonni, come faremmo senza di voi